Tutti però erano concordi sul fatto che l'Ulisse fosse l'opera letteraria più rivoluzionaria della modernità. Tutti lo sostenevano, anche chi non lo aveva letto, perché avevano avuto l'eco della forza di James Joyce. Perché si parla di James Joyce come si parla di Dante? Perché è così importante James Joyce, questo irlandese di Dublino?